Domenica 26 dicembre 2021. È il 360esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. Gli onomastici di oggi. Oggi è l'onomastico di Stefano. Accadde oggi. Il 26 dicembre 2009 la Cina apre la più lunga ferrovia ad alta velocità al mondo che collega Pechino a Guangzhou. La saggezza del web. Citazioni dalla rete. Mi rifiuto di combattere guerre d'intelligenza con gente disarmata. Lo diceva mio nonno. Ogni cosa ha il suo tempo. Parla come mangi. Gli inglesismi spiegati bene. Il termine embed circola nell'accezione di codice HTML che consente di incorporare all'interno di una pagina di rete un video che è collocato esternamente. È un codice di incorporazione che ha generato il verbo embeddare.